Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web List del Consiglio regionale della Basilicata. Il centrodestra Lucano, ancora una volta, mette in scena uno spettacolo indecoroso che svilisce le istituzioni. Lo affermano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Perrino, Carlucci e Leggeri, riferendosi alla seduta congiunta per il rinnovo degli uffici di presidenza delle quattro commissioni consigliari permanenti, saltata a causa della mancanza del numero legale. La maggioranza, sottolineano i consiglieri, non esiste più da tempo. Bardi ne prenda atto e stacchi la spina. Le regioni, in conferenza unificata, hanno dato il via libera al decreto sul riparto del Fondo per l'inclusione e per iniziative dedicate alle persone con disabilità e con disturbo dello spettro autistico. 100 milioni di euro per il biennio 2022-2023 che si aggiungono alla programmazione regionale. Accogliamo con grande soddisfazione questo provvedimento, afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia Coviello, che mira a potenziare il welfare a sostegno delle politiche per persone con disturbo dello spettro autistico. La vicenda dei 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Bucaletto, che vede una disputa tra Ater Potenza, Comune di Potenza e Regione Basilicata, portata all'attenzione della terza commissione consigliare, ha suscitato preoccupazione nei consiglieri Braia, Polese, Cifarelli, Pittella, Trerotola, Leggeri, Carlucci e Perrino. Quando lotte interne portano alla perdita di finanziamenti e a non poter dare adeguate risposte ai cittadini, affermano gli esponenti di PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Prospettive Lucane, è arrivato il momento di mettere la parola a fine. La questione acqua e la revisione dell'accordo di programma tra Regione Puglia e Regione Basilicata meritano risposte adeguate. Lo afferma il capogruppo della Lega Cariello, che chiede all'assessore a ramo latronico di riferire in commissione o in consiglio regionale sulla vicenda relativa al credito, pari a circa 80 milioni di euro, che la nostra Regione vanta nei confronti della Puglia. Come mai, chiede, questa cifra negli anni precedenti di governo di centro-sinistra non è stata mai recuperata? Le comunità lucane all'estero contribuiscono in maniera fattiva alla promozione della Basilicata nel mondo. Lo ha detto il Presidente della Commissione regionale Lucane nel mondo, Cicala, che ha partecipato alla celebrazione del venticinquesimo anniversario della Federazione Lucana in Argentina. Nel ringraziare la Presidente uscente, Lucia Martino, per il lavoro svolto, Cicala ha formulato gli auguri al neopresidente Diego De Marco. Esempio della nuova generazione di origine lucana, che, ha sottolineato Cicala, ha già iniziato a farsi carico dell'impegno e delle responsabilità di una comunità radicata da anni sul territorio argentino. È tutto, grazie per l'attenzione prestata. L'appuntamento è per la prossima edizione.